Innalzare la qualità dell'offerta formativa della scuola siciliana, intervenire tempestivamente per il recupero dei ritardi dell'apprendimento, combattere la dispersione scolastica e favorire l'esercizio del diritto allo studio. Sono questi gli obiettivi del piano strategico per il contrasto alla povertà educativa, la riduzione della dispersione scolastica, la qualificazione e l'internalizzazione del sistema scolastico siciliano per il triennio 2023-2025, che ha ricevuto l'apprezzamento del governo Schifani su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano e che può contare su una dotazione finanziaria di quasi 321 milioni di euro. Il piano prevede un coinvolgimento multilivello del sistema scolastico e delle varie istituzioni preposte in un'ottica di complementarietà e di riconcertazione con le azioni di contrasto alla povertà educativa condotte dal Ministero dell'Istruzione. Alla luce dell'analisi di contesto effettuata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sul fenomeno della dispersione scolastica nell'isola, la regione siciliana intende favorire per il triennio 2023-2025 azioni e iniziative su due distinti livelli di intervento, potenziamento e qualificazione dell'offerta formativa, rafforzamento della governance delle istituzioni scolastiche.